via e bello tutti ragazzi io sono michael in questo video video di minecraft buongiorno a tutti che papi sta facendo roba ok ci siamo va bene cosa dobbiamo fare oggi live trovare l'ender trovare l'ender l'ender drago l'ender drago si sta guardando anche ci siamo nel posto di ieri non come rinziare a capo non c'è da capo vai adesso e partiamo con le maniere con le maniere forti un po buio si poco buio si sente sottofondo un zombie ma non è che dovevi andare qui dentro no proviamo è troll è troll un troll amico mio ok ha bloccato il bug ah era bloccato qui è buio ah perché è un piccolo cielo oh papi io devo fare al serio perché io so dove si trova il drago lo sai stiamo aspettando lo sai stiamo aspettando trovato aspetta l'avventa aspetta dobbiamo accedere così da 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 do 辙 che dobbiamo trovare d che dobbiamo trovare niente roba in minuti roba in minutia oh come è matti è buio neanche parlavanti pressing Qua si sente un zombie E vabbè sono incredibili Io di solito L'ho trovato in sopravvivenza Sì Eccolo Che è sta roba? E' il portale Abbiamo trovato Finalmente il portale Che sono sti cosi? I single fish I single fish C'è la scala tua mamma Nella voce alta che non senti Silver fish Silver fish Ok Aspetta aspetta dove siamo? Nel posto Siamo entrati nel portale raga E vediamo se trovo l'amico No 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 vai piano vai piano scendi scendi Eccolo E facci vedere il portale Lascialo adesso un attimo Siamo nel portale Dell'enderdraero Perché? Boh è notte Ma vabbè diventa giorno ugualmente Non cerca un letto Non c'abbiamo un letto Ci dormi? Non importa papi E' meglio al buio E' meglio al buio Va bene Siamo nel portale Che dobbiamo fare con quello? Montare un occhio Spiegano Tipo prendere un arco Ah ok Cosa facciamo con l'arco? Lo colpiamo? Ma va Sì ma lo colpisci? Lo uccidi? No Non lo uccidi Perché quando è mortale C'è C'è Immortale Allora Addirittura E' quasi mortale Aspetta che finir Ah giusto Prima della distruggere I cosi che lo curano Io ti direi di lascerlo Lascerlo qualche minuto Ce lo giriamo il portale Vediamo cosa c'è Ma che è lo colpo? Lascialo un mattino Vediamo cosa c'è nel portale Anch'io che devo fare una cosa Prima per Dele distruggere i cosi Sono un ovino che non lo posso combattere Va bene Vabbè Vedi tutto a mani A mani Infatti Non è libera Andarle troppo vicino Soltanto interiore Annunci Che fai? Losa Così Lo posso uccidere Tranquillamente Ah quindi Lo scopo Distruggi Questi Così Così Perché sono Che sono Dei libri Che gli danno cosa Dei cubi Che gli danno forza No Dei cubi Che praticamente Lo rendono immortale Lo rendono immortale Quindi Io li distruggo sempre E lo potenziano anche Buongiorno Adesso Passiamo Al prossimo Cioè ti avvicini e esploda Come mai? No perché Mi avvicino e gli do un pugno Ah ok C'è credo Sono in creativa Se no Uguale Però Se no Ci posso Distruggere Con il piccone Occhio Che sono Che sono sti così neri Che ci sono E' Enderman E' quella Il mondo è così piccolo C'è qualcosa Altro Nei intorni Ma il mondo è così piccolo Ma puoi buttare giù anche questi Cos'ha questa cosa? Poi ve li diamo No Oh ma c'è la cosa che fa Automatico Così Colpisce un Enderman Enderman E' sentendo Guarda ce l'ho qui Sono tanti Sono spettatori Maledetti che non guardate i miei video Così mi parla Fa più guarda Cos'ha Come li trollavo Di solito Li trollavo in questo modo Che rumore che fanno Fanno proprio il rumore di merda Che ti ha dato soldi? Oh Ciao Si trasportano Hai notato Si trasportano Si però Fanno delle cose Che si potrebbe Per te la trasporta Ma hai capito Ciao amico Facciamo un po' di festa Ti ho preso Vieni qui Subito Tutto Ucciso Guarda 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 Non è vero una cosa innanzitutto. Ah, c'è un po' di caldo con queste cuffie. Vabbè, mette tutto. Ah, hai capito. Ah, la lancia e ti trasporti lì? Sì, solo che sono abbastanza difficile. C'è, rischi la morte con queste. Rischi la morte? Ah, perché magari appare proprio dove c'è il drago? No, nel senso che... Che sono il centro che magari funziona meglio. Proprio in mano, sai una cosa, però? Cosa? Che sono pericolose per il fatto che più le lanciano lontano e più ti fanno male di danno. Sì? Ah, ok. Le uso solo in cartina. Uuuuuh! Potere. E' esploso. Mi sa che le hai distrutto in tutti, non mi sbaglio? Sì, le hai distrutto in tutti. Ma non diciamo mettere di giorno, così facciamo vedere bene il drago. No, sì. Allora, progressi... Aspetta che ci sono. Ah, eccomi i progressi. I progressi... I progressi... C'è una cosa cosa? Distanza di arena? No, no, questi non ci servono. Perché stai modificando... No, 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 no. poi non vediamo nulla così 5.000 i corsi ma la personalizza skin non ci serve accessibilità non ci serve comandi non ci sono fatto a adesso io ce l'ho sempre così di un minato nel sono io c'ho sempre l'asso di solito quando mai non comprende mi è scappato vieni qui arrivi quanta mi è tutto il bifo ascolta prima di ciò che erano amanzano questi cosi neri eh spinti niente eh sono troppi sono troppi ottima mira lo vedo abbastanza arrabbiato come sentire ciao perché è più basso adesso di vita quella è la sua vita comunque ah quella è la sua vita è infinita proprio lo so per molto grosso togliamo andiamo alla caccia arco lanciali una torcia lanciali una torcia ho ucciso mandermi a casa è un killer non me la fai guardare in faccia voglio vedere come è fatto eh la faccia te la faccio vedere in questo dove? no non il personaggio voglio vedere il dragon no tranquillo so io come fare questo rimedio cosa cosa gli facciamo? cosa gli mettiamo? mi mette le scale no l'assa di granito vuoi dare un pollo? no cosa vuoi fare? pozione al burro come fa una cosa? qua stai cercando lo so se vuoi vedere la faccia ah ok te? testa? eccola qui e cosa fai con quella? togli il pane tanto non ce facciamo niente testa di drago sono a testa di drago ah ebbene a tutti ragazzi eeeh in questo nuovissimo dai vai vai stai la diretta parlandoci vai e oggi siamo con questa testa di drago con il vero sei proprio una testa di drago a parte gli scherzi prendiamo te amica e perfino te anzi ascolta con quella testa di drago cosa si può fare? boh non lo sai? so solo che è uscita una cosa io vorrei capire come fai a vederlo io lo vedo ascolta ma non fa mettere un letto ci ridormentiamo e ci risvegliamo di giorno no nel meter sarà buio ma non credo di dormire perché ah si? ergo si e flodiamo nel meter quando ottima ottima no potemi fare una colla non so vibro incantato vibro incantato cosa vuoi fare? spiegacelo tranquillo distruggiamo no vuoi far esplodere qualcosa? posso metti l'armatura vai in granito no cos'è in diamante oh qualcosa ti sta attaccando o mi sbaglio si sente sottofondo qualcosa di brutto Michael come mai? stai attaccando a te stai attaccando il dragon no no perché ti ho detto una bugia perché ti vuole otro un lago ahhh eh eh a parte di scherzi fatti la pezza ah no però devi spiegare cosa stai facendo ma giallo del tu o no non è per me perché ci seguono comunque vedete le line secche se volete il sapore drag come c'è i tuoi figli e infatti quelli veni qui che ti ammazziamo ma dovete non uccidere eh sì perché li ha attaccati eh allora bisogna non fa mettere lì delle scalette così salgono ma guarda ce le ho trafoto io adesso ho un incudine perché ho un incudine cosa devi fare con le incudine allora adesso devi spiegare tutto dai volevo mettere mille armi che adesso questa qui è più affinata quindi trovi 10 divisa quindi ho alzato una persona ok ascolta voglio pure infuocarla ah ho capito vedete infuocata adesso sì in teoria aspetto di fuoco 2 faccio vedere allora voglio attaccare un enderman e vediamo se tu che sei fermo lì sfracellato allora lo ho asciutato però mi sembra di aver visto che è brutto adesso capi miei amici oh questa guarda saliamo sul drago oh no ma non li tolgo in più è troppo forte sto drago Michael ma no perché sei in pacifica se sei in pacifica non si attacca nel muslima neanche a tu se sta uccidendo gli enderman enderman si chiama sì allora è un'enderman troppo forte sto drago vero? vai colpisci ma non li tolgo ascolta ma non fa a portarlo nell'altro mondo no perché per ucciderlo non puoi più ritornare nel tuo mondo normale finché non lo uccide quindi ah cioè se non lo uccidi non torniamo indietro no allora lo devi uccidere appunto è un combattimento ascolta se mettiamo dinamite è quello che ci sto pensando ma faccio una cosa leggermente più leggerna come tipo blocca di lì e ti c'è in sé maledizione della scomparsa che è sta roba? attirando in lì esca fortuna del mare fortuna del mare 3 terzo livello no? cos'è? fortuna ah questo è buono per i piccoli infatti me lo prendo e lo prendo e lo prendo e lo prendo sopra e lo prendo la ragazzi fa la festa degli incudini adesso adesso ho sentito mi muore dell'incudio quando? lo dovrei far vedere in la stanza ma quello mi ammazza ma lo ha perso che poveri si è incastrato si è incastrato si è incastrato muore muore aspetta come controllare che tutti così si hanno rotti che quando tu praticamente non li disturbi tutti non si è incastrato ma non vedo l'ucidio accedere come per forza ricorda oh no oh no mi stanno mi stanno si stanno per uccidere allora tutto è il momento di ucciderlo lo farà dov'è? tu controlla che non si rigenere la vita perché di solito la rigenera no allora per ora non si è neanche non si è non capisco neanche come si è riuscita a toglierli qui e anche io perché non qui aspetta punti di salute perché non mi fanno una cosa opzioni comandi comandi ecco no non è su comandi attacca distrutti no quelli sono i tasti vai giù ripristino no no non toccare niente qua è tutto a posto torna indietro è tutto a posto no non è una cosa no no questi sono solo i comandi allora questo li guardiamo aspetta vai su opzioni opzioni bravo no no torna indietro aspetta fermo qui segnale un bug no 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 perché fai così e ti togli un bug no ma non è non è questione di bug cosa vuoi fare vuoi modificare qualcosa aspetta fai vedere si fai tutto è immortale vediamo un attimino opzioni personalizza skin non è grafica non è lingua non può essere pacchetti di risorse non può essere ma difficoltà difficili pacifica facile ma siamo in pratica in mezzo al 46 blocca la difficoltà nel mondo vuole avere blocca la difficoltà nel mondo verrà bloccata per sempre facile non potrei no ok proviamo così magari riesce a colpirlo di più come si va contro il mostro non fida il tuo allora non decidiamo no vieni qua maledetto maledetto ma il contrario che facciamo vediamo pure lui già che ci siamo cosa è lui è un altro boss un altro boss colpito colpito adesso si che usci ah ma forse perché non ti avvicini no cosa perché c'è un po' re mi sta uccidendo un milione adesso si può attaccare solo a falla vai vai colpisci fallo fuori quando è in bolo si può attaccare pure con la come se perché non l'hai colpita non perché è vulnerabile ma l'ho colpita vai 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 ho tengo tanta vita hai visto vai 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 ah no perché adesso non mi è in braccio mi è più in braccio taglio vaip vado abbastanza arrabbiato ah al contrario come ma ecco perchè non riusciremmo a fare niente allora per chi si sta collegando adesso stiamo cercando di uccidere l'ender drago ah no ci stiamo provando muovite brutti muoviono tutti praticamente vai vai facciamo in maniere già più forti adesso che è sta roba e anche non dire niente faccio un po' io adesso ti faccio vedere cos'è questo è una bomba ma fa a metterla anche in alto? si allora mettiamoli in alto scusa però che faccio ok ok un pilastro vai così si avvicina che ti direi di fa una cosa ascolta facciamo così mettile tutte qui attorno eh non ne ha un paio di questi cosi vai adesso vai vai eh ma non le trovo niente è un drago eh lo so però no tanto dai niente il posto così quando il drago si ferma qui sì e facciamo la festa sembrerà capodanno no e guarda e guarda c'è poca vita eh oddio poca proprio no però oggi niente è molto grande piano piano come siamo messi allora aspetta che arriva ma non è troppo basso no arriva tanto da eccolo qui ok dai dai colpisci uno di questi sono solo dai direi rispostati che voglio vedere com'è eh non le ho troppo niente eh beh erano troppo bassi aspetta riproviamo dov'è? ok ok allora andiamo qui a parte che stiamo distruggendo come si mette? eh il tasto sinistro ah scusa interessante ma si oh che fai? ah la bocca è la mia eh allora così le facciamo la tappola e non me la metto più perchè non è più range quale vuole range? vuol dire che non agibili ah andiamo indietro eh di qualche secondo sempre allora adesso dovrebbe perchè non sono utile scrivere un papi e forse non c'è nessuno ancora eh vabbè qualcuno entrerà ah la Michael come si colpiscono? eh con l'accendino il tasto sinistro dobbiamo andare vicino no si è scappato oh cacchio perchè? ah peccato abbiamo fatto un mancello allora facciamo così ricarichiamo tutto il mondo? ho capito ho capito mi fai una cosa sbaglio eh che fai del rotaio? mi metto eh si può fare si può fare alcuni riescono da guarda cosa faccio io adesso attenzione resistenza lentezza lentezza avere un aumento salto che facciamo? resistenza c'è c'è Dida entrata in live Dida Raffa ciao Dida sicuramente c'è Tore è Marti saluta ciao Tore ciao Marti sono in live ma è con il live stiamo cercando di uccidere l'ender driver da due ore da due ore quanto ci vuole ci stiamo provando ma è cosa cercano di tutto i dadi i fiori ascolta ma se se lo bloccassi con i muri l'uovo vediamo cosa vuole bene l'uovo? io non leggio era una sorpresa ah sorpresa non mi libera per il mio padre ok adesso vabbè un'arma attenta no zero niente armi non serve perché le armi le tiro fuori stai creando il nemico per il bravo per caso? si ma lo sapevo non mi sembrava che lo sapevo volpe panna mushroom gallina enderman siccome a noi gli piacciono gli enderman prendo questi e anche la roba molto potente che hanno scherzo ma gli enderman sono quelli che sta uccidando con i neri ecco che vuoi fare ok devo fare tutto un muro ma cos'è anche se vola si blocca ah ma ci vuole un casino eh dici eh effetti non ho fatto facile mi rifletti non è facile coltivazione stiamo cercando un testo di zucca? per fare cosa? scrivila ma un tifoso spoilerà ah ok non me lo puoi spoilerare è giusto però se no trovo quello ascolta lo scriviamo? eccolo ok ah no 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 questo ci fa è questo ok allora guarda cosa fa andiamo a testa di zucca ma giganto piccolino piccolino dai è grossa quanto un blocco eh si facciamo la trappola a lui allora che è sta roba? è un golem che ti difende dai mostri ah ok quindi adesso dovrebbe attaccare i nostri alleati quindi gli endermen così li togliamo pure il drago direttamente infatti lì sta lo stanno portando guardalo arriva un drago e le ha dato un cacciato l'ha fatto volare il drago vabbè la testa di zucca cosa serve? a creare a fare questa specie di cosa ah e non fai a farlo grande grande sei sicuro? provalo un'armatura più grande devo fare un'altra cosa e salve infatti adesso la creo se si potesse creare più grande sarebbe l'ideale tipo gigante neve allora quello che è blocco che facciamo proporzioni neve grande vai che spara il drago spara il drago ah con la neve che lancia le cose di neve vai riempiamo di di so che i golem sono dieci volte più resistenti oh oh perché il drago le one shop ah e quando camminano lasciamo neve vai lasciamo neve così ghiacciamo tutto il posto per tanto che mi potrei fare pure gli scherzi allora la sai? si ne metti la l'acqua ne mettiamo l'acqua e fanno si muore c qua c ok sempre se non vi ha già uccisi il il drago il drago ma guarda c'è proprio quello lì ah è la mia perda adesso morirai acqua ah 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 è morto beh in sostanza stiamo sconocci del drago ma ammazziamo i nostri le atti vabbè ci sta alla fine si ci sta vedati che è una cosa che è molto molte da fare quindi abbiamo riempito adesso vendermen vendermen si chiama ma no lo stiamo sperando piu 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 guarda cosa no devi schiacciare solo una guarda guarda ma eh ah lo so però adesso guarda una cosa che fai ah per farli salire no 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 che mi serve il blocco no ti ho lasciato due minuti beh così si mi viene oh mio dio tanto si scrivono tanto si scrivono ragazzi come vedete sto carando il delirio cosa guardi che scappa non andai in acqua decente ciò che spara gli endermen ciò che non li spara gli endermen ciò che li spara e che no uuuu ok dai ti toriti grazie uno infatti è il momento di fare gli scherzetti tagliamo tutto il mondo ah e perfino e perfino e e e e e e e e e prendiamo l'oro prendiamo l'oro d e e fa e e e amico e andiamo e andiamo e andiamo Scusami, inizia l'agore. Evocates! Poi, poi, poi. Cosa fa? Cosa fa? Poi, un po di grifas. Cosa fa? ok il mondo è già più vivo un po' di gente giusto adesso fatemi prendere l'arco e adesso ti starò si è fermato sarà il danno sono un'arciera so che sta cosa si muove troppo ehi motale al posto di divertirci poi per questa live durerà un troppo facciamo una cosa seria che non abbiamo fatto come questo come controllarlo mi faccio la rossa cattiva trappola ragazzi non saprete quanto sono cattivo io così così quando si apprezzerà a rigenerarsi e prenderà il danno ah 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 salutare se ne stai guardando il video cosa guardi guardami il gioco in modo tale che viene che vuoi far tanto il magming ma quanto accorre che vuoi far tanto che vuoi far tanto che vuoi far tanto amico mio ave a p che vuoi si stai Wallagard trovare nulla per sia bella Per adesso Anche se non ho giocato al momento Ma adesso giocheremo alla guerra Una cosa sono Ti farò Peccato in pieno No, non ce la faccio E' impossibile Scusami ma sta roba è impossibile Sungsai S Bämi il s conflicto Scusami Un'immigione 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 Samusai Un'immigione spara, spara fleccia oh, l'ho preso, lo prendo no ragazzi, fatemi andare ragazzi, le ho tolto molta vita fino ad ora proprio è tornato stai combattendo ancora con il drago ho messo molta tuggente sì che credo se l'ha mangiato cosa hai messo? eh, tanti creeper che non trovo più non posso armi davanti così che ti uccida no, adesso è vulgar guarda, ce lo puoi coprire solo con la io però vado in alto in modo tale prima, cioè guarda la sua vita sì, è sceso un po' perché lo sto sparando da mezz'ora oh, l'ho preso a volte hanno reagito negli youtuber che cosa? sulle tattiche oh, gli ender me l'hanno attaccato sì sì eh, ormai sono endermoniati che lo vogliono uccidere no, infatti ne fa una di più a parte ammazzarlo mi sembra la di mettere un po' di evocatori oh, oh, quanti sono sti cosi? ma direi si tu? sì come si chiamano? evocatori tu sappi che se il drago li attacca questi che l'hanno un demonio vedi? quei cosi sono fortissimi quelli piccoli ah, ok perché hanno una spada in ferro ah troppo difficili da prendere ma li messi tu? eh, gli evocatori sì ma quelli no non vogliono endermoni cioè, stai facendo un barbello di gente no, no, no dov'è? dove sei a andar meglio? no mi sparo mi sparo mi sparo bocchi, guarda la mia idea adesso tornare eh, quanta gente, raga mentre l'ho finita? ah gli stanno andando addosso tutti sti sì, perché uno li ha attaccato a questi sono come i primi hai capito lo stanno iniziando a colpire tutti di continuo ma ti ho capito no, la spada, la spada vai da la spada no, io ho fatto che perché le posizioni dall'alto siamo ottenuti mi affedano si toglie sì guarda lui adesso va qui preso colpito, bravo adesso lui va tipo qui cosa usi per sparare? un arco no, ma lo tieni premuto col mouse eh, se per voi fammi provare allora per mirare devo tenere premuto tasto sinistro per sparare e mollare no, per sparare così ok, ok ok e poi molla per sparare difficilissimo lo so penso io che l'ho attaccato talmente tanto vabbè, sei neanche distante secondo me sei troppo distante no, perché io sono buono di mila con me allora, aspetta facciamo così si muove troppo quello cos'è? no, scusa ti dico andiamo direttamente nel portale nell'altro box è papi cioè? quindi io direttamente cioè con il zango vivo e voi li mettiamo insieme ai due boss vittura quindi il vittura lo facciamo fia dal suo mondo quando lo creiamo lo sai che si può fare si si perché l'ho visto in un video che si può arriva, arriva, arriva non parla la vita se no tolgo no, tipo mezzo po' che non è è troppo poco nel tuo cuore dai dai stai a caricare così quello sicuramente lo di più vedi uno l'ho ammazzato di più questo colpita sono gli evocatori loro evocano quegli uomini che lo attaccano è un casino però ti sta per mordere si si se vuole un po' ha disforzo il fin creativo però non ti ha mi ha dato un morso no, intanto lo stiamo colpendo tutta loro vieni qua maledetto in cosa ti dovrebbero uccidre no se lo prendo acquisto un cecchino io lo so veramente prima io ero tipo cacchio mi hai passato al fianco allora lì cioè per terra apriamo in volo ben beccato dov'è? ah quando lo colpisci se ne va verso non ho capito se ne va verso è un morso a tre c'è un morso a quel morso attaccato a tre enderman si what? fa la bocca grossa dai che ti uccidiamo dai che ti uccidiamo non entra nessun si entra ma non scrive non fa niente non devo sapere chi era non tutti volevano scrivere ok ma così non parliamo oh che mira raga certo papi se lo farei dove lui sta andando davanti quindi adesso lui sta camminando quello affare davanti a dove sta camminando tu devi lo becchi sicuramente a parte che mi passa per davanti dai che lo stiamo uccidendo Marco dai dai è troppo difficile eh sembra una stupidaggine ma è un casino si muove veramente molto questo è l'youtuber che la ammazzano con tranquillità beh ma lo uccidiamo anche noi non è quella che ci vuole un pochino di tempo dai ottimo è morto no ma ecco quanto manca è pochissimo vai lo stai per ammazzare bravo vai per vai mi manca poco guarda quando vai guarda quando vai è bene adesso non è proprio adesso ci dico la palla oh ma che è un mincibio che non muore no non c'è più vita praticamente un colpo è solo siiii super oh che hai capito? se vai lì poi dite un'energia normale queste cose ci servono? no è un'esperienza che è utilissima è sopravvivenza dai vai tu ah si ma possiamo pure restare nel land sai? quindi si io volevo fare una cosa ma non so se gli altri non lo volevo ma non me lo volevo fare cosa vuoi fare? liberano l'inventario ah si siamo strappini di roba inutile inutile ma non entriamo nel portale? no perché si può fare pure qui credo che cosa? no io ti consiglio di uscire da qua perché è troppo buio ma saranno notte lì dove? tuoi vabbè poi ci facciamo la dormita e torniamo con la luce ma è meglio non dormire uuuuuh affetta qui c'è una cosa che si può skipare dammi lo skip ti prego da dove sta? come hai fatto? sei uscito? ahhh ci sta dando la la cosa dei più forti quindi qui c'è un player non ce la secondi no sei primo perché non ci sono altri player come si sa? ehm prima penso che debba aspettare qualche secondo che ci da tutta la eh lo so però di solito si potrà saltare in online intendo e poi dobbiamo uscire no ok hai visto? saltato schiacciuto ESC semplicemente ESC adesso? adesso? prossimo boss vuoi continuare? io mi devo spostare un secondo però ok? ok ascolta ti lascio il microfono così guarda così ti senti eh va bene? sì non spostarlo stavolta non ti senti più? infatti mi scrive una cosa ragazzi allora oss oss qui un po' di ossidiano ok 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 scusate se sono molto ma è una roba difficile il prossimo posto conosco il nome è una signora non sono un spoiler non ve lo farò non sai Sambia Piazza Ui Testa Esso Testa Ma potremmo pure con l'autoportale Chi si mette L'autoportale Sambia 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 Shift Scusatemi se sono così muta e poco non è lunga Cioè è poco divertente però ecco qui E lo sento Accendiamo il portale colosso Boom Eccolo qua Caricamento del terreno Sambia di anni Tutte le disquare Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Ragazzi Non c'è 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 ragazzi sono in pausa per un po' di secondi e me la la merenda in bocca mmmm ha fatto il pranzo eccolo qui lanza io ti miro il chakra è brutto hehehe vengo a scapar eee ups eee un trucco questo è stato un uff 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 Mmm. Hai hai. Amico ma tu dovresti saper volare Quindi cosa fai? Non spaccare Non spaccare Non spaccare Non spaccare no cascapi allora troviamo barricchetti qui dentro no a 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 ma vabbè scusa mio amico, ma dovrei fare ma ragazzi stiamo registrando come stai la nostra polla ciò non so se sono ancora registrando perché non la tomo sacco questo ruido al patio al patio al patio pericolo 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 ok 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 non c'è un po' finire la rezza ok finisce e non c'è un po' fai 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 Grazie a tutti. Una quante stelle non funziona male, ma ne ha anche tutte male. Oh, perché c'è fatto, vuol dire? Eccolo. Lo devo tenere sotto controllo, perché lui è molto pericolato, mi sembra. Comunque, guardate il tour. Spiamo. Eccolo, guardate. Eccolo, guardate. Passa qui, non c'è il cotto. Ehm? 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 Maravolo! Fammi chiudere dentro, perché tu sei molto, molto pericoloso. Quindi, fare una sala. Non trovo! No! No! Non ravno di nuovo! Ah, ah! Sei che chio! Sei che chio! Sempre che chio! ma no buono a 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 supportable a 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 prendo tutti i loot a 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